Ehi, facciamo chiamata aiuto. Cosa? Chiamata aiuto? No. Ti piace tanto? L'odio. È fantastico. Io, seria a te? Hai un piano migliore? No. Lo facciamo. Non faremo chiamati aiuto. Chiamate aiuto, per favore! Mio fratello sta volando! Chiamate aiuto! Aiutatelo! Un classico. Il suo porca ve l'è. È un mio. Beh, per me non lo è. Qual è la navicella che dovevamo prendere? Comoda. Sai, forse non sei poi così male, fratello. Forse no. Grazie. Se fossi qui potrei anche abbracciarti. Solo qui.